E che assistenza stradale sia per darci il benvenuto a Monte Rigioni Oh Vieri Bobo Vieri qui Uno Cosa fai? Non colpire Claudia Uccidetelo Ah Peggio ancora Oh Ce n'è altri? Ah E che è rimasto da solo Adesso mi torna Ah no Ce n'è altri Davvero Però la prima uccisione si fa sempre con la lama E dai Non muore Non muore Fai mandare da Claudia Fai mandare da Claudia prima che l'ammazzino E dai Così si fa Ma se facessi così? Qui Rimane uno A posto Vi ringrazio messere Ma perché lo zio Mario sembra Nino Frassica? Perché ragazzi è uguale È incredibilmente uguale a Nino Frassica Zio Mario It's a me Mario È passato di tempo Troppo Ho saputo quanto è successo a Firenze Terribile Venite Dobbiamo condurvi via di qui Da fuori a dentro praticamente Allora